E ritorno alla normalità passa anche dagli ospedali che riprendono la loro attività. Questo comprende interventi chirurgici ed urgenza per i quali servono scorte di sangue. Scorte che in questo momento si stanno esaurendo. C'è bisogno di sangue, a dirlo è il vicepresidente della sezione Avis di Andrea, Nicola Berardino, che lancia un forte appello affinché i cittadini riprendano come un tempo a svolgere questo importante gesto di solidarietà in grado di salvare la vita di molte persone. A destare forte preoccupazione in questi giorni è il calo delle presenze dei donatori. La difficoltà è talmente elevata che c'è il rischio che vengano bloccate le attività operatori nell'ospedale di Andrea e probabilmente anche negli ospedali delle città vicine. È un invito a tutta la cittadinanza perché la situazione è talmente difficile che ci vuole una massa enorme di persone che vengano sollecitati a donare il sangue perché, ripeto, la situazione a causa del Covid-19 sia avuta una caduta del numero dei donatori e quindi delle conseguenti donazioni. Donare il sangue è sicuro anche al tempo del Covid-19. Il sangue e gli emocomponenti, oltre che consentire la vita a coloro che ne hanno costantemente necessità, sono un presidio terapeutico indispensabile per interventi chirurgici e trapianti d'organo così come per alcuni trattamenti farmacologici. Non c'è nessun problema durante la donazione. Anzi, è un sistema per tenere sotto controllo la propria salute perché donando frequentemente uno riceve, aggiornandosi, il proprio stato di salute perché l'ospedale successivamente alla donazione manda a casa gli esiti degli accertamenti fatti sul proprio sangue. Quindi è un'opera di generosità verso il prossimo, però è anche un'opera di tutela della propria salute. L'invito è rivolto a tutti i donatori di sangue affinché, anche in un momento così difficile, non facciano mancare il loro fondamentale apporto in ordine ad una risorsa preziosa ed indispensabile per quei pazienti che sono costretti ad effettuare trattamenti trasfusionali periodici. Possono donare tutti i cittadini. I requisiti essenziali sono la maggior età, quindi 18 anni, un peso minimo 50 kg e uno stato di salute buono.